Albadriatico e Capistrello si affrontano nella trentesima giornata alla ricerca di punti pesanti in chiave playoff. I vibratiani, oggi privi dell'infortunato capocasa e degli squalificati Giambè e Leonardo Emili, vogliono aumentare il distacco di soli tre punti dai marsicani. La compagine di Misteriodice, invece, ha la chance per riaprire completamente i giochi. Dirige l'incontro colonna della sezione di Vasto. I locali partono bene e dopo cinque minuti, Foglia, con questo pallonetto dalla strana traiettoria, impegna Di Girolamo nella respinta in corner. La risposta marsicana arriva tre minuti dopo con il colpo di testa di Fantauzzi, salvato da Di Nicola sulla linea. Vuoi per l'alta posta in paglio e anche per le condizioni precarie del manto erboso del Luca Vallese, il primo tempo va agli archivi senza altre emozioni. Ad inizio ripresa arriva subito l'episodio decisivo. L'incomprensione tra Fabrizi e Petrini favorisce Pollino, che è il più lesto di tutti e deposita a porta vuota la rete dell'1-0. L'attaccante Amaranto è ancora protagonista al diciottesimo, con questo destro bloccato da Petrini. L'Alba fatica a metabolizzare il colpo subito e riesce a concludere in porta solo al trentaseiesimo con Di Nicola, sfera alle stelle. Nel recupero ci prova anche Lorenzo Emili, ma il suo destro non trova i palidi di Girolamo. Poco prima del fischio finale, Miani finisce a terra in area dopo questo contatto, ma per il direttore di gara si tratta di semplice rimessa dal fondo. Decisione che scatena le proteste di giocatori e tifosi locali. Finisce così 1-0 per il Capistrello, che sale a 49 punti agganciandogli al Benzi e lo spoltore, per una rotta playoff completamente riaperta. Masticamaro invece è la squadra di Misterizzotti, chiamata al riscatto nella prossima giornata contro l'arenato Curiangolana. Misteriodi c'era una gara dalla posta in paglio molto elevata, alla fine l'ha spuntata il Capistrello, che ha giocato una partita anche intelligente a suo modo, perché non ha concesso quasi nessuna occasione agli avversari e poi nel momento di colpire sulla disattenzione dell'Alba Adriatica si è fatta trovare pronta. Sì, noi l'avevamo preparata così, sapevamo i pregi e i difetti dell'Alba Adriatica, poi sapevamo che il campo non ti permetteva di fare un tipo di gioco, che noi cerchiamo sempre di giocare la palla da dietro, quindi l'abbiamo preparato in questo modo. È stata una partita difficile, equilibrata, si sapeva che l'episodio poteva fare la differenza, è andata a favore nostro, siamo contenti, ma più che altro per i ragazzi, per dare continuità a quello che abbiamo fatto domenica scorsa e quindi per sperare ancora, per rimanere nelle prime posizioni per cercare di raggiungere i playoff, che per noi sarebbe una cosa storica. Mister Rizzotti, era una partita fondamentale in chiave playoff, è stata una gara molto equilibrata, molto combattuta, decisa se vogliamo anche dagli episodi. Dove secondo lei la sua squadra oggi è mancata, ma dove invece forse la sfortuna vi ha condizionati? Per Indore non parlo mai di sfortuna, oggi devo citare questa massima, lo dico tranquillamente, campo 1 al Badriatica 0, perché è da tempo che ci lamentiamo di questa situazione, di fatto non puoi giocare a calcio, a me allenare ragazzi di questa età e dire palla lunga e poi vediamo quello che accade, insomma non è che mi fa neanche piacere. Il gol che hanno fatto loro è stato evidente che il campo non permetteva di poter giocare a calcio, loro l'hanno interpretata benissimo la partita, non hanno mai giocato a calcio anche loro, come è giusto che fosse, allungando sempre e costantemente la palla, in quell'episodio lì dovevamo buttare la palla anche noi, ma ripeto con un campo così sfido chiunque a fare calcio.